Attenzione perché Loro Ortega si fa insidiosa addirittura nei confronti di Alba! Sono amicinissimi! Contatto! È il contatto! No, no! Non chiudere gli occhi! Non chiudere gli occhi! No! Non chiudere gli occhi! Oh! Buongiorno! Dava! Dava! Ma che vuoi? Passato un anno la vita va avanti, capito? Perché non la smetti di consegnare le pizze? Tu puoi fare qualunque cosa! Ho fatto un casino! Che hai fatto? Ho iniziato a studiare da un annetto! Dove? A Milano, alla Naba! Ma dai! Anche io ho fatto la Naba! E io non sapevo che tu cattassi! Diciamo che cantiamo un po' insieme! Pronta?